Mi dicono che c'è anche un over 40 e 45 bodybuilding, concorrono insieme a tutti? Va bene, prego. Lei è il vincitore della categoria 72? Over 40. Se c'è anche il vincitore dell'over 45 bodybuilding può salire sul parco. Braghetti Emilio. Decorato Sapino. Lui? Lui? Chez nobuinha? Senti dicol amb lui! experiments! Senti ecologine? Certi. Senti ecologine Irei? A dest Anna, è con te. La donna Samantha prende il microfono. Conduco. Allora ragazzi, fermi. Datevi spazio. Datevi spazio. Ok, ok. Doppio bicipite. L'orzare le mani fianchi. Ok, il lato destro. L'espansione toracica. Tre bicipite. Tre bicipite. Ok, schiena. Doppio bicipite. Dorsale le mani fianchi. Dorsale le mani fianchi. Ok, frontale. Gambe addominali. Gambe addominali. Ok. Continuate a posare. Poseribili. Via ragazzi. Forse state giocando l'assoluto. Bene così. Bene così. Allora, signori concorrenti, il risponso è arrivato. Potete mettervi. Io direi di lasciare soltanto il foglio del primo. Scusami. Lasciamo soltanto il foglio del primo e togliamo gli altri. C'è qualcun altro? Scusami. Allora, signori potete...